Bentornati sul nostro canale YouTube e grazie di seguirci. Oggi vi presentiamo la tappezzeria della Fiat 500C, ma questo lo vedremo dopo l'intro. Eccoci ancora insieme amici. La Fiat 500C presenta una tappezzeria a mio parere bellissima. Oggi ve la presentiamo nella versione nocciola, ma esiste anche nella versione grigia. La particolarità di questa tappezzeria è il tessuto, questi due cadenini che vanno a incorniciare la parte centrale del tessuto. Un tessuto che definiamo monospiga, in quanto presenta questo tessuto spigato ed è una spiga unica diciamo, non è una spiga doppia. Tra queste due parti, queste due righettine, cammina una spiga così come era in origine. Come dicevi prima c'è la versione beige e la versione grigia, che questa viene determinata dal colore esterno della vettura. In base al colore esterno della vettura si adotta la tappezzeria beige o la tappezzeria grigia. Questa è la tappezzia dei soli sedili anteriori, così come usciva di fabbrica, la topolino C aveva solo due sedili. Esigenze successive hanno fatto sì che ognuno ha costruito una panchetta di fortuna per poter far salire, portare a bordo i nonni, i figli, per portare altre persone perché due era troppo poco. Noi abbiamo anche in catalogo comunque la panchetta posteriore e di conseguenza possiamo fornire anche la tappezzeria per la panchetta posteriore sempre dello stesso tessuto e colore che sia grigia che sia beige. Chiaramente questa della panchetta è un optional perché prima di base c'era il tappeto riccione e nasceva come un bagagliaio la parte posteriore. Sì, un portavaligi, portabagagli che naturalmente va, anche se uno monta i sedili, prima di tutto va rivestita perfettamente con il tappeto riccione e soprattutto anche in sedia di omologazione la panchetta va tolta perché non è originale una panchetta quindi quando si porta la macchina presso una seduta di omologazione ASI va tolta e deve essere tappezzata con il tappeto riccione che noi abbiamo anche sul nostro catalogo ben batto, già ben costruito ma successivamente poi faremo un video ad hoc solo per quell'articolo perché merita tantissimo perché è anche un articolo bello. Chiaramente io ricordo ai nostri amici che i nostri prodotti sono 100% made in Italy, tessuto made in Italy, lavorazione artigianale made in Italy. Frutto di un'esperienza cinquantennale. Certo, perché Elvezio è sul mercato da più di 50 anni, ha iniziato quando era un ragazzo quindi questi sono prodotti che sono nati con Elvezio anche. Certo, soprattutto con Elvezio. A corredo di questa tappezzeria è preferibile sempre acquistare anche i pannelli delle due portiere perché vanno nello stesso colore e nella stessa tappezzeria, nella stessa stoffa dei sedili. Quindi di conseguenza consigliamo sempre di acquistare tappezzeria e pannelli nello stesso momento perché il bagno del tessuto potrebbe risultare poi diverso a distanza di tempo, certo. Quindi è preferibile sempre e consigliabile acquistare i due articoli nello stesso momento. E soprattutto perché a distanza di tempo non è assolutamente recuperabile il tessuto con cui è stata fatta la tappezzeria o i pannelli se il cliente acquista solo la tappezzeria o solo i pannelli. Se passa del tempo finisce il rotolo quindi finisce quel bagno di tessuto. Il colore magari è sempre uguale, però il bagno naturalmente cambia e quindi di conseguenza poi si avranno due sfumature differenti. Abbiamo costruito anche le imbottiture per i sedili davanti. per quanto riguarda il cuscino proprio fatti in grine così come era in origine e per quanto riguarda la spalliera abbiamo costruito un blocco di gomma adatto per questo tipo di fodera che calza bene e che se naturalmente quella del cliente è rovinata quindi può anche benissimo acquistare le imbottiture per fare un ottimo lavoro. E' importante anche ricordare ai nostri amici che ci guardano che abbiamo tantissimi prodotti per la Fiat 500 quindi non si basta, non si limita solo alla tappezzeria o ai pannelli e l'imbottitura. Abbiamo anche il telaio. Oggi parliamo di questo e stiamo mostrando questo perché abbiamo direi centinaia di articoli per quanto riguarda il topo componentistica, accessori, guarnizioni, tappeti abbiamo tantissimi articoli per completare la vettura. Questi articoli li trovate sul nostro sito www.alvezio.com Chiaramente per ogni informazione potete contattarci, qualunque domanda, informazione potete telefonarci o contattarci via email. Il prodotto come dicevamo è 100% made in Italy. Altra caratteristica questi cadenini laterali sono... Questi cadenini si delineano il sedile così come questi due cadenini che sono al centro della spalliera chiaramente il cuscino è tutto liscio. Faccio vedere anche il retro che è liscio quindi non ci sono cadenini nella parte posteriore è così liscio, c'è tutto tessuto e la seduta è altrettanto liscia, c'è il cadenino laterale come in origine. Come in origine, si è fatta ne più e ne meno come era l'originale. Per oggi è tutto, vi ringraziamo di averci seguiti. Se volete vedere altri video potete continuare a seguire il nostro canale YouTube. e buono shopping!